A Marina Romea, i carabinieri della compagnia di Ravenna, durante la tarda mattinata di oggi, hanno tratto in arresto un cittadino ravennate rumeno per favoreggiamento della prostituzione. I militari della stazione carabinieri di Marina Romea lo tenevano d'occhio già da qualche giorno e questa mattina il prolungato servizio di osservazione ha permesso di cristallizzare tutte le fasi della condotta che concretizzano il reato di favoreggiamento della prostituzione. L'uomo, classe 55, ha prelevato da casa e accompagnato ad una piazzola di sosta lungo la Romea una giovane ragazza rumena. Qui i carabinieri si sono palesati e dopo aver identificato entrambe le persone hanno accompagnato l'uomo in caserma e lo hanno dichiarato in arresto. Il sessantenne attenderà il reito direttissimo agli arresti domiciliari nella propria abitazione.